Buongiorno a tutti, eccoci qui per un nuovo appuntamento con il vice direttore della tecnica della scuola Reginaldo Palermo. Professore, che novità ci sono a proposito di scuola? Domani c'è un'importante riunione a proposito del contratto. Sì, domani c'è un incontro presso la sede dell'Aran fra i dirigenti dell'Aran e le organizzazioni sindacali. Si parlerà della parte normativa del contratto perché, come sapete, la parte economica è già stata siglata, almeno la preintesa è stata siglata nel mese di dicembre, quindi adesso entriamo nella parte normativa. Parte sulla quale ci sono un po' di punti interrogativi, in particolare bisognerà capire come superare lo scoglio costituito dal problema, dal tema del codice disciplinare dei docenti, perché su questo pare che non ci sia molto accordo fra i sindacati e la parte pubblica. Così come peraltro non c'è molto accordo anche sulla questione dei nuovi profili professionali del personale ATA, che è proprio il tema da cui si ripartirà nella giornata di domani. E poi bisognerà che in qualche modo sindacati e Ministero e Aran decidano anche un calendario, perché a conti fatti siamo arrivati a metà dicembre e insomma questo contratto bisognerà pur siglarlo in tempi rapidi, insomma non possiamo andare avanti ancora molto in questa situazione. Bene, bene, invece per quanto riguarda il decreto Mille Proroghe, che novità ci sono? Ma sul decreto Mille Proroghe per il momento è tutto fermo, nel senso che il decreto è quello di cui abbiamo già parlato, abbiamo già detto che nel decreto ci sono alcune cose che riguardano la scuola, ma l'aspetto più preoccupante, almeno che preoccupa molti insegnanti, è quello che nel decreto non c'è. Mi riferisco per esempio alla questione dell'organico aggiuntivo che il decreto appunto non nomina e alla questione dei vincoli per la mobilità, che anche in questo caso non c'è nulla su questo tema specifico, mentre i diretti interessati speravano proprio che con il decreto Mille Proroghe ci fosse qualche novità. Il decreto dovrebbe essere depositato in Parlamento in questi giorni, non sappiamo ancora se inizierà il percorso dalla Camera o dal Senato e quindi nelle prossime ore sapremo dove inizierà il dibattito sul decreto Mille Proroghe, perché non dimentichiamolo, il decreto Mille Proroghe, come dice la parola stessa, è un decreto legge e quindi per diventare legge a tutti gli effetti deve passare al vaglio del Parlamento, Scamera e Senato. Bene, professore, passiamo invece all'inclusione degli alunni con disabilità, perché sono state pubblicate recentemente delle linee guida proprio sulla disabilità. In cosa consistono? Sì, hai detto bene. In questi giorni il Ministero della Salute ha pubblicato le linee guida per la richiesta e il rilascio delle certificazioni per la disabilità ai fini della inclusione scolastica. Si tratta di un documento molto importante, peraltro lo si conosceva già, ma adesso è diventato ufficiale perché ha superato tutti i controlli del caso a partire dal controllo della Corte dei Conti. Questo documento, queste linee guida sono molto complesse, contengono novità interessanti e sicuramente la nostra testata non mancherà di occuparsene in una specifica trasmissione dedicata proprio all'argomento, perché è un tema particolarmente complesso, particolarmente articolato, non è possibile, come dire, affrontarlo e ridurlo ad un intervento di pochi minuti come noi qui abbiamo a disposizione. Ecco, però posso preannunciare che sicuramente ce ne occuperemo. Bene, invece l'argomento della settimana, uno degli argomenti di questa settimana sembra essere l'introduzione del docente tutor, il Ministro dell'Istruzione del Merito Giuseppe Valditare ne ha parlato più e più volte. Ecco, a che punto siamo? Siamo al punto che al momento attuale ci sono queste linee guida sull'orientamento, dentro queste linee guida si parla appunto del docente tutor che si dovrà occupare di sostenere gli studenti anche ai fini dell'orientamento, è una operazione sicuramente interessante, si tratterà di vedere come potrà poi nel concreto essere applicata, anche perché non dimentichiamo che questo personale avrà poi necessità, avrà poi bisogno di essere formato e magari avrà anche necessità di essere adeguatamente remunerato per questo ulteriore compito. Non a caso i sindacati hanno già detto, sì sì, va tutto bene, però bisogna che il Ministro si confronti con noi per gli aspetti più strettamente contrattuali. Peraltro colgo l'occasione anche per ricordare che su questo, proprio nella mattinata del 10 gennaio, ho intervistato una persona che ne sa molto di questo, che è il Mario Rusconi, presidente della NP Roma e quindi vi invito anche a ascoltare appunto questa intervista dove parliamo più specificamente del tema dell'insegnante tutor. Bene, grazie per queste risposte, grazie, un ringraziamento al vice direttore della tecnica della scuola, il professor Reginaldo Palermo, un saluto a tutti, alla prossima. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.